Grazie a tutti. Conoscete tutti sicuramente l'inizio dell'opera e ricorderete come comincia sommesso e dimesso per dare proprio l'idea della folle giornata, cioè di una specie di chiacchiericcio che sottintenda il movimento piuttosto disordinato, per così dire, della musica. Scherzi a parte dobbiamo parlare delle nostre di Figaro, che è l'arcinoto capolavoro di Mozart, che è tanto noto anche dal punto di vista bibliografico da, come dire, suggerire in maniere diverse di affrontare l'argomento. Solo che dovessimo parlare della fortuna di quest'opera in questo teatro, oppure alla Scala o altrove, dovessimo parlare della bibliografia che esiste su quest'opera, non finiremmo più. Ed è opera tanto bella, tanto valente, quanto lunga e complessa. I personaggi sono molti, le arie sono molti, i recitativi sono moltissimi. La trama, detta così, come proverò a dirvi, è anche abbastanza facile, corrente e leggera. Di fatto è di una difficoltà pazzesca. Permettetemi una brevissima parentesi personale, credo di conoscere quest'opera da sempre. Ricordo che l'ascoltai per la prima volta per radio, facevo il liceo, e quindi avevo l'età dei liceali. Quando, 50 anni dopo, mi sono trovato a dovere, per ragioni di scrittura o cose del genere, riassumere l'opera, non in maniera generica, ma precisamente scena per scena, ricordo bene di aver cominciato questo lavoretto alla mattina e l'ho finito alla sera, alla faccia dell'opera nota. Ero convinto di conoscere bene l'opera, volerla raccontare per benino, scena per scena, personaggio per personaggio, aria per aria, bigliettino per bigliettino e così via, fu una cosa che mi impegnò per una giornata. Questo per dirvi come l'opera sia, nella sua enorme bellezza, anche difficile da raccontare, per cui cercherò di esprimermi sulla genesi dell'opera, sulla fortuna dell'opera, anche magari sul personaggio stesso di Figaro. Quando arriverò alla vicenda, alla storia, alla trama, cercherò di tagliar cordo, perché questo ci porterebbe forse via troppo tempo. Invece l'opera merita, come potete bene immaginare, tanto dal punto di vista drammatico, quanto più, se possibile, dal punto di vista musicale. Dunque, le nozze di Figaro. Già l'istituto, per così dire, del matrimonio è un qualche cosa che è abbastanza caratteristico della storia dell'opera. Ci sono opere nel 7-800 comiche in particolare che si chiamano le nozze, e basta. Le nozze di Dorina, le nozze di Graziella, le nozze del Camaccio, che è una delle poche opere immaginate, estese da Mendelssohn. Se poi si va sul versante del matrimonio, allora c'è il matrimonio inaspettato, c'è il matrimonio per concorso, da cui deriva la Gazzetta di Rossini. Voglio dire che, soprattutto in ambito comico, l'idea, il momento del matrimonio è molto fecondo di espressioni musicali. Per quanto poi riguarda Figaro, siamo fortunati, nel senso che, essendo un personaggio di opera comica, non può certo risalire all'antichità. Dovessimo parlare, che so, di Enea, di Achille, di Agamennone, allora avremo delle fonti prestigiose. Figaro, come Don Giovanni, poi sapete, anche Don Giovanni è personaggio non antico, neanche medievale. Anche Fausto sono personaggi, che non sono personaggi comici, si intende, sono personaggi tutto sommato piuttosto recenti, però con delle fortune teatrali e musicali effettivamente straordinarie. Per cui la genesi di quest'opera, per certi aspetti, diventa molto semplice. Per noi è questo enorme capolavoro datato e ubicato al 1786 a Vienna. Allora non posso dire che fosse ordinaria amministrazione, però insomma il tutto si inseriva in una prassi molto felice di opera italiana a Vienna. Non dobbiamo dare retta a coloro che, guardando al nome dell'autore, Mozart, austriaco, ritengono che si tratti di una cosa strana, di una cosa singolare. È un'opera italianissima prodotta da un compositore non italiano che sapeva che l'opera è al 99% italiana. I nostri figaro non hanno nulla di austriaco, di tedesco, sono una meravigliosa opera italiana. La genesi, intanto l'opera vi dicevo che nasce nell'86, esattamente al primo maggio, con un successo grandioso al teatro di Vienna sul momento. E anche in seguito, si diceva, il giorno dopo delle recite, a Vienna e anche a Praga, si fischiava, tutti fischiettavano per strada i motivi del figaro. Accorciavano, abbreviavano il teatro. Le nostre di figaro diventava figaro senz'altro. Pensate soltanto al farfallone amoroso, è quella tipica aria che si ascolta una volta e si può anche non ascoltare più. Rimane immediatamente impressa in mente. Un po' di genesi, come capita sempre, il libretto, questa volta confezionato da Lorenzo da Ponte, non nasce dal nulla. È quasi impossibile che un'opera non abbia un precedente. E qui abbiamo un precedente molto vicino. Le mariage de Figaro è questa commedia di Beaumarchais, il grande commediografo e drammaturgo francese, che l'aveva concepita nei primi anni Ottanta, l'aveva scritta nell'Ottantuno, l'aveva poi rappresentata con fatica poco dopo, l'aveva anche stampata. Era opera piuttosto difficile e complessa dal punto di vista proprio della storia, come sicuramente ricordate, come posso provare a ricordare. Per cui la genesi, soprattutto a livello della liceità di un'opera del genere, è piuttosto contraddittoria. Il librettista Lorenzo da Ponte era notevole scrittore, era memorialista, era autobiografo, voi potete andare in una qualunque libreria a comprare per 20 euro le memorie di Lorenzo da Ponte, che sono divertentissime, perché sono scritte anche bene. Sono un po' menzognero, un bel po' menzognere, perché in genere ricordare la propria vita non sarà molto facile. Soprattutto in questo caso Lorenzo da Ponte era tanto abile e drammaturgo quanto uomo discutibile, quindi tutto quello che poteva tornargli a disonore lo raccontava. Allora lui racconta che in quell'anno, nell'85, erano a Vienna tutti e due, Mozart, Salesburgese e lui, Veneto, si invaghì lui di questa trama, di questa storia, la commedia di Beaumarchais, e andò dall'imperatore, che era Giuseppe II, per proporgli quest'opera. L'imperatore disse, ma neanche per sogno, è un'opera che critica il ceto aristocratico. Anche a Parigi era successo questo. Quando Beaumarchais la scrisse, pazienza, ma quando la volle rappresentare, il re di Francia, il re di Borbone, disse no, 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 no. Ci volle moltissimo, moltissimo. Ci vogliono alcuni anni prima che arrivasse il permesso della rappresentazione. Lo prendevano anche in giro il re di Francia. Dicevano, il re dice di no, di no, di no, di no, ma alla fine poi diventerà sì, perché a forza di parlarne, 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 diventerà, come dire, dominio comune e alla fine il re sarà costretto a permetterlo. Il re effettivamente accettò. Lorenzo da Ponte disse, ma io assicurai l'imperatore che avrei privato l'opera di tutti quegli aspetti più corrosivi, più cattivi nei confronti dell'aristocrazia, per cui alla fine l'imperatore accettò. Mozart fu contentissimo, si mise al lavoro all'incirca nell'estate del 1785 e cercò i cantanti, si aggiustò un po' tutto e l'opera appunto andò in scena il primo maggio dell'86. Questo è quello che racconta lui più o meno. In realtà scavando di qua e di là sono sorti alcuni altri problemi. Per esempio c'è ancora chi dice che invece l'imperatore era contento di un'opera del genere. L'imperatore era Giuseppe II d'Asburgo Lorena, figlio di Francesco di Lorena e dell'imperatrice Maria Teresa. Già la madre, Maria Teresa, era stata imperatrice illuminata. Lui era illuminatissimo come imperatore, come sovrano, talmente illuminato da contrastare alquanto certi poteri precedenti. Vi ricordate il Terzo Stato in Francia, gli aristocratici, i sacerdoti, il clero? Noi sappiamo con precisione che l'imperatore che abitava a Vienna voleva controllare la posta che intercorreva fra il Papa e i suoi arcivescovi per dar un'occhiata. Quindi era veramente anticlericale. E quando il Papa Pio VI andò a Vienna, provate a immaginare la difficoltà di viaggio da Roma a Vienna, per contrattare qualcosa con l'imperatore, gli fece alcune domande, gli chiese alcune cose, l'imperatore lo accorse con tutti gli onori, ma gli disse no, 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 no. Questo lo dico perché a un imperatore del genere, viceversa, poteva stare a cuore un'opera che fosse così ostile al ceto aristocratico. Da buon imperatore, da buon sovrano illuminato, sempre nei limiti del Settecento, a lui poteva fare più comodo invece, come dire, fare vedere che gli aristocratici rappresentano un ceto, diciamo così, in estinzione, invece magari i nuovi, per così dire, i serbi, i servitori, Figaro e Susanna in questo caso, sono coloro che possono rappresentare il futuro. Sapete poi che di lì ha trent'anni, salta fuori Rossini, che dà le barbiere di Siviglia. Non dovremmo affrontare questo problema, però anche quest'opera è stata vista in varie maniere, in particolare è stata intesa come l'opera dell'Homo Novus, l'opera dove il Figaro, il protagonista, il barbiere, protagonismo anche non incensurabile, è colui che risolve le situazioni, è colui che manda avanti la vicenda, è veramente l'uomo che si è fatto da sé, il self-made man. Ecco, questa è un po', come dire, la divaricazione critica nella quale si agita l'opera. Sta di fatto che nel giro di non tanti mesi Mozart la musicò. La musicò, il padre da lontano, stava a Salzburgo, non era mica tanto contento, ci furono alcuni momenti in cui il padre non riceveva lettere da Wolfgang e disse, perché non mi scrive questo gagliofo di mio figlio? E poi, quando seppe che stava musicando le nostre, disse, ecco perché non mi scrive, perché sta musicando un'opera un po' pericolosetta, un'opera anti-aristocratica, sta a vedere che si mette nei guai. Mozart era capacissimo di mettersi nei guai, ma non in questo caso, non in questo senso, tanto più che, e qui c'è veramente da inchinarsi, davvero da inchinarsi al genio di Mozart, se scorriamo la sua cronologia, vediamo che ebbe modo, ebbe occasione, ebbe proprio il dovere di interrompere almeno tre volte la composizione dell'opera perché dovette comporre qualcos'altro, dovette provvedere a una seconda versione del idomeneo, e pazienza, soprattutto dovette comporre quei due meravigliosi concerti che sono catalogati come K488, K o meglio Kegel 491, che sicuramente conoscete, se non li conoscete, provate ad ascoltarli, provate ad ascoltarli pensando che non sia Mozart, immaginando che sia Beethoven, beh, veramente, veramente, Mozart è talmente beethoveniano, quando vuole, naturalmente, che questo 491 in do minore è un concerto, il pianoforte non arriva mai, per dieci minuti abbiamo l'impressione di essere davanti a una sinfonia, ma con uno spessore, con una profondità veramente beethoveniana. Bene, il nostro Mozart ci lavora diversi mesi a quest'opera e si ferma, e si ferma, per comporre cose del genere. Quindi, anche questo dovrebbe aiutarci a capire che siamo veramente a sommi livelli artistici. Del resto, sapete, l'anno dopo, soltanto l'anno dopo, a Praga, non a Vienna, dà il Don Giovanni, nel giro di un anno, concepisce e mette insieme Don Giovanni. Poi c'è qualche guaio, molti guai, l'88 è l'anno più brutto della vita di Mozart. Lasciamo stare. Pensate che Mozart, nell'88, non aveva nulla da fare, non aveva delle commissioni, e non sapendo cosa fare, pensò qualche sinfonia e scrisse, buttò giù, nell'estate dell'88, le sinfonie 543, 550, 551, che sono le sue sinfonie più grandi e più belle. Nel momento della sua grande maturità artistica non era riconosciuto per quello che valeva. Quindi pensate a quante cose composte nel giro di di pochissimo tempo. Fra l'altro, le nozze ebbero un successo enorme adesso, ebbero un successo enorme a Praga anche poco dopo, e se il tempo ce lo permette possiamo anche provare a parlare un po' dopo, si cominciò subito a vedere in quest'opera troppa audacia, non dirò dal punto di vista drammaturgico, perché l'audacia o non c'era, o da ponte l'aveva sfumata e così via, ma dal punto di vista musicale. ci sono due arie di Susanna, personaggio che sicuramente ricordate, che adesso possiamo un po' ricordare assieme, che, soprattutto la prima, non sembrano mica arie. Chi ha idea dell'aria tradizionale, dell'aria italiana, la bella melodia che procede, che a un certo punto modula un pochino, poi torna indietro, quella bella cantabilità nella quale ce levano i grandi colleghi di Mozart, che erano Paesiello, che erano Cimarosa, Piccini e così via, quando vuole Mozart la adotta e la sposa compiutamente, quando non vuole no. C'è un'aria nel secondo atto, venite, inginocchiatevi, che è un'aria, se noi chiudiamo gli occhi, capiamo che è un'aria, ma se guardiamo, guardiamo la scena, vediamo in scena tre personaggi che non stanno fermi un attimo, scenicamente, voglio dire, è un terzetto, musicalmente è un'aria, canta solo Susanna e canta cose frammentarie, anche il libretto dimostra che le cose che dice le dice a un personaggio o a quell'altro, di nuovo a quel primo personaggio, è un'aria, non aria potremmo dire, un'aria scenica, un'aria motoria. Andò bene alla prima, alla seconda, al secondo allestimento preghese, si disse ma che aria strana e chiese ora a Mozart di comporre un'altra e ne compose un'altra con le parole un moto di gioia che è tanto bella, anche essa si intende, ma non ha questo tasso di originalità, per cui se vi capitasse vedrete che nel decorso dell'opera ovviamente noi oggi ascoltiamo Venite inginocchiatevi, ma questa gemmina ulteriore di Mozart non è andata perduta, è passata nel novero delle aree da camera, aree da concerto, aree isolate. Anche l'area dell'ultimo atto dei Vieni non tardare diventa al desio di Chitadora. Vedremo che questa aria, questa serenata di Susanna per certi aspetti potrebbe essere un po' compromettente. Vi parlavo prima della ricca bibliografia di quest'opera. C'è un intero volumetto scritto da Massimo Mila che si chiama Einaudi che si chiama Lettura delle Nozze di Figaro. Arriva Mila a menzionare quest'opera e a un certo punto dice, proveremo dopo a ricordarsene assieme, questa è una nota a luci rosse. Naturalmente forse era esagerato, ma per dire come quest'area che oggi ci sembra tanto bella e tanto pertinente allora potesse sembrare un po' troppo audace. Senza tante storie la recita seguente fece in modo che quest'area venisse cancellata, sostituita da un'altra, ma ripeto anche quest'altra è bella e ha un suo percorso a sé. L'anno dopo Mozart deve fare il Don Giovanni, deve comporre due arie per il tenore e no, ne compone una sola. Perché allora non ne ascoltiamo due? perché prima gli diedero un certo tipo di tenore. Quando dovette riprodurre l'opera poco dopo il tenore era diverso, cancellò quell'area e ne mise un'altra che naturalmente è di stile un po' diverso. Oggi cosa facciamo? Sono talmente belle che l'ascoltiamo tutte e due, però come dice la bibliografia ricchissima anch'essa sul Don Giovanni non avremo mai, mai, mai il vero Don Giovanni perché a forza di aggiungere, di togliere, perfezionare, limare, va poi a finire che la seconda versione non è né più bella né più brutta, è semplicemente diversa dalla prima. A questa prima del primo maggio dell'86 parteciparono cantanti notevoli, anche qui dobbiamo soltanto un attimo fermarci, perché sono quasi tutti, erano quasi tutti italiani. Francesco Benucci, un basso, cantava la parte di Figaro. Vi ricordate quando nel Don Giovanni nella scena della Tafelmusik, quando Don Giovanni alla fine, verso la fine, sta mangiando tranquillamente e l'orchestrina gli canta qualche cosa, ecco, allora si sente dire questa poi la conosco purtroppo, è lo stesso Benucci che là cantava la parte di Figaro, qui canta la parte dell'Eporello. Oggi facciamo fatica a sorridere di queste cose. Allora era pane quotidiano. Francesco Benucci, grande Figaro, grande grande dell'Eporello. Stefano Maldini cantava la parte del basso baritono, ovvero del conte. Luisa Lasky cantava la parte della contessa, ancora cantante italiana, come vedete. Dorotea Bussani e Francesco Bussani cantavano le parti di Cherubino e di Bartolo. Nensis Torace, ecco, l'unica non italiana, peraltro cantante abile e anche donna molto graziosa che piacque molto a Mozart, ecco lei era piacque come cantante, come figurina femminile, come dire, è l'unica eccezione a un parterre di cantanti tutti italiani. Libretto italiano, stile italiano, cantanti italiani, all'opera di Vienna questo si dava e si dà ancora per fortuna perché veramente si parlerà in tedesco a Vienna ma l'opera italiana è ancora considerata per quello che emerta poi sapete che a Bado ci ha lavorato tanto in questa maniera in questo stile. L'opera dunque consta di quattro atti e come dire compie un certo sacrificio se vi capitasse di leggere in versione italiana le mariage de Figaro ma anche in francese è un francese molto accessibile vedrete quello che si vede sempre nel corso delle opere nel momento in cui il dramma d'origine deve diventare un libretto e cioè c'è una sicurezza di taglio non si può immaginare soprattutto nelle opere dell'ottocento tanti personaggi non si può immaginare personaggi per due o tre tenore due o tre baritone due o tre soprani bisogna sempre scremare nelle nostre di Figaro rimangono molti personaggi però sono sempre meno rispetto a quelle delle mariage de Figaro come usava allora si tendeva a distinguere i personaggi nella cosiddetta coppia nobile o coppia seria che erano sempre quelli che aprivano le locandine dalla coppia servile dunque il conte di Almaviva Basso è un personaggio centrale nell'opera come del resto la contessa la contessa d'Almaviva la contessa Rosina che è soprano sono questi nobili sibiliani che hanno naturalmente ciascuno il suo servitore il servitore del conte è Figaro basso anche lui più basso ancora per la verità se dobbiamo accettare una presenza baritonale in quest'opera sarà molto meglio che l'accettiamo per quanto riguarda il tenore il personaggio di Figaro vuole bello scuro tanto per dare un'idea per molto tempo in Italia è stato un grande Figaro Cesare Siepi che è stato come sapete un grande Filippo II nel Don Carlos un grande Fiesco nel Boccanegra eccetera eccetera la domestica la servetta la cameriera della contessa è Susanna soprano a questo punto diremo soprano la contessa e soprano la cameriera due voci uguali assolutamente no la voce di soprano per fortuna è molto varia di colore di tessitura e di stile di coloratura per cui la contessa è un grande nobile soprano serio da opera seria che si chiamava proprio prima donna seria Susanna è quella che si chiamava prima donna buffa e cioè molto molto richiesta dal punto di vista del brio della vivacità della scena della recitazione ma dotata di un canto non vorrei essere frainteso di un canto facile il canto della contessa è notevolmente difficile note lunghe note tenute grande solennità come sa dice al personaggio il canto di Susanna è relativamente facile poi naturalmente la facilità esecutiva può anche diventare difficoltà espressivo gestuale la signora contessa può cantare le sue bellissime aria standosene bella ferma una Susanna che se ne sta bella ferma non funziona perché Susanna deve appunto rappresentare qualcos'altro ecco coppia nobile coppia non nobile coppia servile poi tanti altri personaggi c'è il medico della situazione che è Don Bartolo Basso c'è il maestro di canto della situazione Don Basilio che è tenore non meravigliamoci se in quest'opera il tenore ha una parte secondaria siamo nel settecento siamo nell'ambito comico il tenore doveva ancora lanciarsi nelle conquiste ottocentesche peraltro Don Basilio è anche un personaggio antipatico quindi le idee che possiamo avere del tenore come personaggio affascinante e così via queste idee vengono assolutamente messe in fuga c'è il personaggio di Marcellina che è una signora anziana un po' un po' pettegola un po' un po' trafficante c'è Cherubino parleremo di Cherubino che è un personaggio delizioso ma anche deliziosamente difficile perché dovrebbe essere anzi è di fatto un ragazzo un adolescente allora si pose sicuramente a Mozart il problema che voce dare a un adolescente posso dargli la voce di uomo certo non voce scura quindi magari una voce una voce chiara però come vi dicevo il tenore allora funzionava un po' meno e quindi si pensò che la voce della donna che è sempre più bella e più elastica della voce maschile fosse adatta per cui Cherubino è un adolescente è un ragazzo che ha una voce femminile e questo comporta qualche piccolo problema perché se voi ascoltate qualche edizione discografica e sicuramente ne avete e ce n'è ce n'è di meravigliose con direttori splendidi e cantanti splendidi vedrete che spesso la parte è affidata al mezzo soprano che va benissimo che va benissimo se non è un mezzo soprano verdiano ecco un amneris che diventi facilmente Cherubino faccio fatica a immaginarlo però però si è verificato anche questo caso la tessitura di Cherubino è una tessitura corta Cherubino non canta né troppo su per cui non è un soprano sfogato come si diceva allora e non canta neanche giù contra l'alto già mai mezzo soprano ecco basta che il mezzo soprano si chiami Teresa Berganza si chiama Frederica von Stade ecco una voce bella simpatica leggera da mezzo soprano ma non da mezzo soprano come vi dicevo verdiano o cose del genere qualche qualche altro personaggio minore Don Curzio che è il il giudice Antonio che è il il giardiniere e Barbarina Barbarina è un mistero insondabile perché Barbarina non canta quasi mai canta all'inizio del quarto atto una rietta che è più corta è più facile è più inutile di così non potrebbe sembrare ma è una bellezza per cui quando l'ascoltiamo la vorremmo riascoltare sempre la fantasia l'inventiva di Mozart era tale che anche un personaggio minore ha una situazione poco importante e così via lui dava delle cose diciamo pure così delle cose assolutamente incantevoli l'opera vi dicevo è molto difficile da raccontare nei particolari però però è pur sempre un'opera dell'epoca e quindi un'opera molto schematica è più difficile per certi aspetti raccontare un'opera di Wagner sapete che Wagner non amava gli stacchi e quindi in Wagner non troviamo l'aria il duetto il concertato l'opera di Wagner è un un elastico continuo è un qualche cosa che non che non si interrompe mai per cui non possiamo parlare di forme chiusi o numeri chiusi con Mozart lo facciamo e come però sono tante tanto intricate queste forme chiuse che il discorso torna complesso in realtà le scene dell'opera dal punto di vista librettistico drammatico sono 28 i quattro atti si organizzano per 28 scene naturalmente queste scene comprendono recitativi e parti misurate parti da cantare melodicamente parlando che diventano esattamente 14 se considerate la metà il libretto vedete 28 scene nella partitura nello spartito trovate 28 nuclei per così dire all'interno dei quali che cosa c'è c'è intanto l'ouverture la parte iniziale della quale un pochino parleremo e poi c'è questa grande dovizia di arie 14 arie 14 arie poi ci sono i duetti sono 6 duetti ma sono tutti per quello che mi ricordo non duetti ma duettini non dobbiamo trascurare troppo queste formule questo vigeva anche nell'ottocento quando l'autore voleva comporre un duetto un terzetto alla grande cioè ben organizzato tripartito bipartito lasciava la parola così com'era quando per qualche ragione diventava breve lo chiamavano duettino e qui abbiamo sempre sempre dei duettini pesti brevi le arie sono molto molto a fisarmonica possono essere belle lunghe complesse come vi dicevo ma anche corte e facili il duetto è tendenzialmente duettino abbiamo due terzetti a primo modo di parlarne non ci sono né quartetti né quintetti sembra che Mozart voglia come dire tenere le forze ma è un'impressione per Don Giovanni che arriva di lì a poco e per Così fan tutte Così fan tutte l'opera del 90 1790 ha altro prodigio non tanto dal punto di vista drammaturgico ma dal punto di vista proprio dell'architettura musicale i pezzi d'assieme di Così fan tutte sono tutti dei piccoli o dei grandi monumenti come dire forse forse anche per questo Mozart qui si permette il lusso di saltare il quartetto il quintetto ma c'è il sestetto verso la metà del terzo atto abbiamo un sestetto anche qui dobbiamo però contarle le presenze in scena perché dal punto di vista musicale è tutto talmente vario talmente movimentato che l'assieme come ce lo immagineremmo sei personaggi l'uno di fianco all'altro che cantano stando ben attenti a quello che devono cantare sicuramente in questo caso non avrebbe senso ci sono due cori pochi sono pochi veramente i cori perché perché nel settecento il coro usava poco è già un miracolo che ci siano perché nelle opere del seicento il coro non c'era mai il solismo il virtuosismo dei cantanti soprattutto dei castrati era tale da non tollerare la presenza di qualcos'altro il coro era sentito come una frangia inutile male perché quando verso la metà del settecento si cominciarono ad attuare delle riforme Gluck e altri autori allora Costoro dissero e no il coro va inteso un po' alla greca va inteso come una riflessione un po' astratta come dire di quello che si sta verificando e quindi il coro comincia a esserci per diventare poi determinante in Rossini in Bellini in Verdi in Verdi soprattutto che ci siano due cori è come dire una esigenza pratica della storia della trama che non può naturalmente non farci piacere se si tratta di un'opera in quattro atti vorrà dire che bisogna tenere presente anche il problema del finale il finale quando nell'ottocento si diceva finale primo finale secondo come finale secondo che significa finale secondo significava finale del secondo atto ogni atto aveva un finale gli atti non il primo in genere gli atti potevano cominciare nel modo più inavvertito nel modo più più sciocco potremmo dire con un semplicissimo recitativo secco cominciare ma finire no loro avevano l'idea della fine dell'atto come di un qualche cosa di particolarmente ricco e maestoso quindi quando si vede oggi può capitare che un'opera in tre atti diventa un'opera in quattro un'opera in quattro atti diventa un'opera in tre o roba del genere dobbiamo un pochino diffidare perché si rischia di perdere questo senso del finale della chiusa alla grande della storia dal punto di vista appunto della vicenda o dal punto di vista della musica stessa e quindi abbiamo un finale primo del primo atto che consta di un'aria e gli altri tre atti che terminano con dei concertati le grandi scene concertate dove tutti praticamente tutti i personaggi entrano in scena e cantano tradizionalmente anche in verdi anche nel sommo verdi i personaggi possono cantare l'uno di fianco all'altro con Mozart no con Mozart c'è sempre l'idea del movimento della scena del gesto della storia che continua che non si può assolutamente mai arrestare il coro finale l'assieme finale non coro l'assieme finale può essere un po' statico ma il secondo atto sul quale un pochino ci dovremmo intrattenere e il terzo atto finiscono con delle scene che hanno veramente dell'impressionante e vi cito in ultima istanza l'ouverture con la quale ho cominciato questa chiacchierata il plotto d'origine il dramma d'origine Le mariage de Figaro era intitolato anche La folle giornée la folle giornata ed è proprio questo il criterio che guida Mozart a concepire questa ouverture la potremmo anche chiamare sinfonia se vogliamo all'italiana visto che è un'opera italiana certo è che non ci si può immaginare una sinfonia regolare col suo bell'andante col suo bel minuetto no 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 è un allegro in forma sonata anche piuttosto spicciativo direi quasi quasi che un pochettino anticipa Rossini Mozart non aveva mica difficoltà a elaborare i temi stavolta però vuole fare presto primo tema in Re Maggiore secondo tema in Mi Maggiore se non ricordo male e via poco sviluppo il tutto per dare questa idea di folle giornata di movimento l'opera ottempera alla unità di tempo di luogo d'azione alla greca per così dire comincia in un'ora non ben precisata del mattino finirà come la trama ci dimostra ampiamente alla sera e quindi è una descrizione di una folle giornata che ha luogo musicalmente parlando con questi recitativi con queste ari con questi pezzi d'assiemi e con quel non posso dire segreto ma con quell'elemento tipicamente Mozartiano forse no tipicamente viennese questo sì che si chiama condotta sonatistica Mozart era talmente abile anche come autore di sinfonie di concerti di quartetti di sonate e così via che aveva questa sovrana capacità di modulare continuamente gli italiani italiani gli italiani puri per così dire nel concepire un'aria o anche un pezzo d'assieme partivano da una tonalità colorivano un pochettino la tonalità una notrellina un po' diversa un bemolle in più un diesis in più ma non poi tanto e poi tornavano velocemente a casa soprattutto in questi grandi concertati Mozart modula aggiunge toglie aggiunge toglie in una maniera impressionante per cui sentiamo questa orchestra che corre che lotta con se stessa che procede che veramente sottostà al canto dei personaggi ed è un ulteriore racconto se non fosse stilisticamente parlando quasi una bestemmia direi che c'è qualcosa di wagneriano in Mozart no per tante 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 ragioni ma questo accompagnamento che non si ferma mai un pochino l'idea ce la dà e la vediamo subito assolutamente subito nella sinfonia sapete come comincia il don Giovanni con quel terribile tema in re minore che tornerà poi quando don Giovanni capitombolerà a laverno ecco adesso siamo sul versante assolutamente opposto e guardate che entrambe le opere tutte e due le opere sono commedie sono drammi giocosi non possiamo soffermarci sul don Giovanni ma don Giovanni finché lo considereremo un'opera seria con degli elementi comici fino allora non lo capiremo don Giovanni è un'opera comica che ogni tanto vuole farci un po' paura ecco ma non effettivamente non molto di più la storia la possiamo provare a ricordare assieme ma veramente per sommi capi perché appunto come dicevo prima se provo a imbaccarmi con voi nel racconto minuto rischio di mangiare troppo tempo invece qualche altra osservazione musicale ci vorrà siamo nella Siviglia dell'epoca del Settecento l'opera seria allora tendenzialmente specificava il tempo dell'opera la battaglia di Legnano di Verdi si ambienterà quando ebbe luogo la battaglia di Legnano voglio dire Lernani quando c'era quel re di Spagna che divenne imperatore come Carlo Carlo V e così via l'opera comica no si immaginava che si svolgesse più o meno nel tempo della composizione quindi nella Siviglia più o meno più o meno dell'epoca abbiamo questo grande castello governato dal conte di Almaviva e dalla contessa di Almaviva vi ho citato i due servitori e c'è una bella novità in questo castello in questo feudo la novità consiste che il signor conte ha rinunciato allo ius primen octis cioè quell'antico diritto di possedere le fanciulle prima che loro andassero a legittime nozze il conte l'ha eliminato sono tutti contenti inneggiano al conte che è un sovrano illuminato e così via ma il conte pensa di potersi ancora permettere qualche piccola licenza l'ha eliminato come dire nove volte su dieci quando arriva quella volta che la cosa un pochino lo stuzzica pensa che sia il caso di conservarlo e quindi ha messo gli occhi sulla cameriera della sua consorte Susanna senza che Figaro il futuro marito di Susanna se ne accorga se ne è ben accorta Susanna la quale lo spiffera a Figaro e quindi da qui si comincia a svolgere tutta la serie di inganni di trame e così via la contessa è molto 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 in confidenza con Susanna e quindi quando sente da Susanna quello che il conte vorrebbe da lei si sdegna e piange e accetta in qualche modo di cominciare a burlare o a prendere in giro il marito addirittura a dissuadere quasi con la forza con la violenza il marito c'è per esempio nel secondo atto quella scena che ha dell'incredibile che un pochino vi citavo prima il secondo atto comincia con una grande bellissima aria mi bemolle maggiore della contessa porgi amor qualche ristoro se voi leggete il libretto vedete che sono pochi versi è una cosa da niente poeticamente parlando la musica dilata in una maniera che ha dell'impressionante questi pochi versi e sia da ponte che Mozart hanno l'idea meravigliosa di evitare il recitativo spesso c'è il recitativo che racconta un po' di storie che ci fa capire la trame e così via qui no la contessa che non è mai comparsa nel primo atto entra con la massima solennità nel secondo atto bellissimo preludio e poi lei attacca porgi amor qualche ristoro cavatina una cosa incantevole la tipicissima aria melodica italiana quando dopo Susanna le ha raccontato quello che il conte vuol fare di lei e con lei e quindi cominciano a mettere in atto la burla e pensano di travestire Cherubino da ragazza allora Susanna canta quell'aria che vi citavo prima venite inginocchiatevi che non ha quasi nulla se non il solismo vocale dell'aria la contessa da un'occhiata a Cherubino e sebbene si ritenga donna molto omorigerata e molto seria un po' perché è tradita dal marito un po' perché Cherubino è un giovanotto in fiore per così dire qualche prurito lo prova anche lei Susanna se ne accorge Susanna è furbissima e Susanna deve travestire Cherubino davanti alla contessa ma Cherubino è un maschietto che ha la voce di donna e che a questo punto però deve essere travestito da donna quindi voi capite che la sensualità è quasi alle stelle in questo caso e Susanna non si lascia scappare nulla guardate il briconcello guardate quanto è bello che vesto che figura che furba guardatura ha delle braccia più bianche delle mie dice Susanna e la contessa dirà quante buffonerie dopo ma intanto come si suol dire un'occhiata al giovanotto l'avrà data ecco un'aria bella bella di per sé insolita dal punto di vista formale e ricca così ricca come nessuno potrebbe immaginare dal punto di vista del dramma e poi succede un po' di tutto che si deve nascondere Cherubino poi si nasconde Susanna quando Susanna sempre in questo atto chiama fuori Cherubino dal gabinetto dove è chiuso c'è un duettino ah certo duettino cantano in due aprite presto aprite aprite la Susanna sortite sortite e capiamo che è un duetto perché cantano in due ma è un duetto tutto mormorato tutto sussurrato che dal punto di vista come dire del melodismo o della caratura vocale sembra quasi non esistere ecco un duetto che è un duetto ma ma non è un duetto dopo succederà il finale secondo atto il finale secondo atto quel lungo concertato che vi dicevo è una una serie di invenzioni che ha dell'incredibile proviamo a contare i personaggi due personaggi sarà un duetto poi arriva il terzo personaggio oddio diventa terzetto diventa quartetto no poi due se ne vanno e torna una scena a due personaggi si va da uno due personaggi fino a sette personaggi alla fine potrà anche essere potrà esserci sembrato un settimino ma in realtà è tutto un incredibile Andi Rivieni con delle sfumature di carattere proprio strettamente musicale che hanno ancora una volta dell'incredibile quella frase con cui si dice conoscete signor Figaro questo foglio chi vergò è tutta una trama ai danni del conte ma Figaro non è consapevole del tutto conoscete sì no 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 non senteremo un gioco di eco di questo avverbio negativo no che ancora una volta ha dell'incredibile e la cosa si ripete nel nel terzo atto nel terzo atto proprio all'inizio abbiamo un altro duettino un duettino fra il conte e Susanna crudel perché finora farmi languir così e allora il conte vedendo che Susanna diciamo così ci sta poi non è vero ma insomma finge di starci dunque in giardin verrai sì e non mi mancherai no ma mentre lui dice dunque in giardin verrai non mi mancherai qualche volta Susanna si sbaglia e dice sì e no a seconda e si sbaglia per cui mentre lui dice sì lei risponde sì no no sì sono giochi che ci sembrano o sciocchi o incredibili e che però danno esca per così dire alla commedia alla commedia intera per velocizzare non vi ho citato nulla del primo atto ma il primo atto è quello che comincia dopo l'ouverture con due duettini quando mai si è vista una cosa del genere la storia esigeva questo e così Mozart fa con due duetti con gli stessi personaggi Figaro e Susanna Susanna che si prova il cappellino guarda un po' il mio caro Figaro guarda un po' con il mio cappello e Figaro sta misurando la stanza 5 10 20 36 43 cosa fai mio Figaretto sto guardando la stanza che ci dà il conte bravo ci dà questa stanza il conte ma lo sai perché ce la dà ce la dà perché lui dorme lì e io dormirei qui quindi ci deve essere qualcosa che non funziona e qui parte appunto il discorso il primo atto che finisce con la grande aria di Figaro non più andrà a farfallone amoroso trombe tutti gli strumenti più belli e più forti li sentite per forza perché bisogna dare l'idea del fatto che il conte si libera di quella rompiscatole di Cherubino e lo manda a fare l'ufficiale nel suo reggimento tutto quello che sarà il rischio della vita militare Mozart lo deve raccontare anche musicalmente con appunto questi suoni così vispi così forti così timbrati e così ricchi però attenzione perché quando dice non più andrai farfallone amoroso e si rivolge a Cherubino che va cercando di sedure tutte le ragazze del villaggio non è poi vero al certo per cento che si rivolga a Cherubino perché un pensierino Figaro lo fa anche per il conte perché sta proprio costruendo la trama contro di lui e anche a lui dice non più andrai farfallone amoroso ecco un altro caso della pregnanza per così dire di questo di questo dramma le arie vi ho citato la contessa vi ho detto che il vantaggio della prima sarebbe quella di non avere recitativo benissimo la seconda ce l'ha dove sono i bei momenti altra aria incantevole sono quei momenti in cui l'azione si ferma si sospende la melodia più bella che si possa immaginare però dopo la contessa ah se almeno la mia costanza canta un pezzo una parte di aria che è più forte più veloce tutto in do maggiore se non ricordo male però è più motoria e più veloce è già un'aria potremmo dire quasi rossiniana quasi belliniana perché chiaramente impostata su due parti la prima delle quali comoda e larga e contemplativa la seconda la seconda invece come vi dicevo più veloce e più discorsiva ecco se potessimo dare un'occhiata alla forma di tutte le aria ce ne accorgeremmo bene del resto il conte canta quella grande aria nel terzo atto che è un'aria di sdegno un'aria seria effettivamente come io sono il conte dice e cerco di possedere questa ragazza che invece preferisce un servo vedrò mentre io sospiro felice un servo mio è un ben che in bandesio e il possedere dovrà lasciarti in pace non vuoi questo contento tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancora per ridere di mia infelicità detto così può sembrare una sciocchezza ma la musica che Mozart inventa è musica forte drammatica dura aggressiva proprio per dipingergli il personaggio ed è un'aria difficile ed è un'aria piuttosto estesa tutta in re maggiore bella forte drammatica se guardate se ascoltate la riettina che Figaro canta nel primo atto se vuol ballare il signor continuo il chitarrino le suonerò quasi vi scappa da ridere perché è tutto un'aria corta corta è un'aria facile torno a dire anche facile da cantare ecco evidentemente ci deve essere questo svario questo discrimine fra una vocalità seria e una vocalità comica il quarto atto potrebbe essere potrebbe essere più problematico il grande sestetto sta verso la metà del terzo atto il quale terzo atto finisce con una grande scena di ballo potremmo dire quasi proprio di ballo perché il conte e la contessa benedicono per così dire le nostre che sono doppie perché nel frattempo si è capito che Figaro è figlio di Bartolo e Marcellina e quindi sebbene Marcellina faccia un po' la smaniosa con Don Bartolo e Don Bartolo le dica or non parliamo di cose sirimote siamo vecchi dobbiamo metterci a parlare di avventure partite tanti anni fa conte e contessa devono benedire le due coppie ma anche qui c'è la letterina che viene passata al conte che si punge con le dita Figaro non capisce di cosa si tratti c'è gran bella musica e c'è questo libretto sovrano come vi dicevo il quarto atto può essere problematico per questa ragione perché allora usava veramente usava ed è usato fino a Rossini compreso che non dico proprio tutti ma quasi tutti i personaggi di un'opera fossero meritevoli di arie se siamo abituati lasciamo stare Wagner Wagner è capace di comporre un'opera di quattro ore e di introdurre un personaggio solo nel primo atto se gli fa comodo il personaggio può scomparire o può arrivare solo nell'ultimo nel Siegfriedo Brunilde arriva soltanto alla fine ecco sono cose assurde per l'opera tradizionale nell'opera tradizionale c'era questa volontà di onorare praticamente tutti i personaggi per cui io vi ho citato qua e là le aree non vi ho citato le aree di Cherubino purtroppo le canzoni le canzonette non so più cosa sono cosa faccio voi che sapete cos'è amor tutte piccole delizie ma quando da Ponte arriva al quarto atto si accorge si accorge effettivamente che bisogna comporre qualche cosa anche per Marcellina e anche per Don Basilio quindi Marcellina canta la sua aria il capro e la capretta stanno sempre in amistà che è un'aria come dire sentenziosa gli animali il sesso negli animali è fatto in modo che il maschietto e la femminuccia vanno sempre d'accordo guarda un po' solo in noi che non siamo animali ma siamo esseri umani questo accordo non ci può stare anche Don Basilio deve cantare un'aria in quel tempo in cui val poco la malpratica ragione e bianchi un certo foco fui quel desso cor non son perché ve le cito ve le cito perché se vi capita di ascoltare una edizione normale di quest'opera non le sentite non le sentite voglio dire che Mozart ritene di doverle comporre sono arie belle naturalmente la fortuna dell'opera come dire il successivo la successiva presenza dell'opera nel repertorio ha fatto sì che l'opera venisse un pochino omologata con le opere successive vi immaginate un'opera di Verdi dove anche i personaggi minori hanno un'aria ma neanche per sogno Verdi aveva una drammaturgia così solida e così mirata che soltanto i grandi personaggi dovevano fermarsi negli assoli voglio dire che leggendo Mozart con questa ottica più tarda si è pensato o insomma queste aree veramente sono inutili devo dire che anche grandi direttori hanno fatto questi tagli quindi è una cosa è stata a lungo una cosa normale ultimamente mi sembra che invece ci sia qualche ravvedimento del resto sapete la differenza credo che possa essere sempre quella un conto è lo spettacolo e nello spettacolo veramente il taglio può avere un senso per ragioni di velocità di opportunità di tempestività e così via personalmente ritengo che l'edizione discografica che possiamo delibare come dire in maniera successiva e comoda debba comprendere esattamente tutto quello che l'autore ha scritto ecco la ragione per cui il quarto atto potrebbe essere il più problematico però poi ci sono le altre scene dei due protagonisti la scena di di Susanna quando Susanna travestita da contessa deve cantare la serenata già che una donna canti la serenata non è che sia proprio la cosa più normale del mondo la donna la riceve la serenata lei la canta deviene non tardare ma chi la canta la canta lo capiremo mai nel bellissimo film nel bellissimo allestimento con la regina di Jean-Pierre Ponnel si vede Mirella Freni grande Susanna vestita da contessa che deve ingannare sia Figaro che il conte ma in questo momento si sente talmente sincera e talmente Susanna sebbene sia vestita da contessa che almeno si toglie la parrucca e quindi vediamo Susanna che vuole essere assolutamente a se stessa e quando dice vieni 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 finché risplende in cielo notturna face la parola face tocca il lagrave il lagrave il lagrave è una nota che fanno fatica a fare anche soprani drammatici c'è anche nel ballo in maschera ma è una nota difficilissima da farsi perché Mozart a una voce di subret per così dire a una prima donna buffa ha dato questa nota così grave torna il discorso che vi facevo prima della bibliografia e di Massimo Mila è la nota a luci rosse lui dice che scendendo questa nota nel petto della voce femminile scendendo quasi nelle viscere della donna si dà proprio l'idea di una sensualità molto 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 speciale effettivamente molto Mozartiana ci sarebbero anche altri esempi da raccontare ma c'è anche la grande area di Figaro aprito un po' quegli occhi se la leggessimo con pazienza prima ancora di ascoltare la bellissima musica vedremo con quale astuzia da ponta è riuscito a mettere assieme dei sostantivi che hanno un certo senso con degli aggettivi che hanno un senso contrario le donne le donne le fanno di tutti i colori sono sirene che ci mandano in rovina sono comete che ci fanno sbagliare la strada possono essere rose spinose e certo le rose sono belle ma hanno anche le spine sono volpi vezzose le volpi sono vezzose sono belle ma sono anche cattivelle perché se no non sarebbero volpi è tutto un gioco ossimorico per così dire dove da ponte è maestro Mozart è ancora più maestro se vogliamo fino poi alla splendida scena finale dove dove dobbiamo immaginare che ci sia una serie come dire di padiglioni dentro i quali sono andati a finire un po' tutti i personaggi alla fine sono quasi tutti presenti in scena e si svela finalmente che cosa abbia combinato che cosa abbia fatto il conte quando non dando il perdono a nessuno a nessuno a nessuno finalmente esce la contessa io almeno dice potrò ottenere perdono un attimo di sgomento solo quando il conte dice contessa perdono 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 quattro parole sono quattro parole incantevoli sembra che l'azione si fermi e invece no l'azione si ferma quanto basta per procedere poi con il coro finale che riguarda la folle giornata la folle giornée mi avvedo di non avervi parlato di tutta l'altra fortuna che ha avuto il personaggio di Figaro nella storia dell'opera ancora nell'ottocento abbiamo opere che si chiamano il nuovo Figaro i due Figaro che raccontano un po' il seguito della storia un altro Figaro che sarebbe Cherubino diventato grandicello o addirittura grande che si fa chiamare Figaro e che agisce e procede in un certo modo nel corso dell'opera nel corso anche di opere come dire abbastanza ricche abbastanza fortunate almeno all'epoca mi piace finire con qualche annotazione ma breve breve sulla fortuna di quest'opera in Italia all'epoca ma anche un po' dopo in particolare a Bologna intanto si ha come prima esecuzione italiana di quest'opera un fatto incredibile il fatto che di lì a pochi anni veramente l'opera venga rappresentata a Monza in un teatro effettivamente minore le testimonianze non lasciano dubbi chiamarono un giovane compositore napoletano che si chiamava Angelo Tarchi e gli dissero dà un po' tu un'occhiata a quest'opera di Mozart dimmi un po' che cosa possiamo combinare e lui disse il primo atto è molto bello il secondo è molto bello il terzo e il quarto no e allora e allora li rifaccio io ecco lui avrebbe rimusicato con non so quale faccia il terzo e il quarto atto dell'opera che poi passò altrove passò alla scala con cantanti notevoli anche al San Carlo Isabella Colbran la prima moglie di Rossini cantava la parte della contessa Felice Pellegrini un basso dell'epoca cantava la parte di Figaro ci stupisce il fatto che la parte del conte venisse cantata a volte da Manuel Garzia che era un tenore quindi vi dicevo prima che il conte è un basso un pochino baritonaleggiante se vogliamo facciamoci cuore allora poteva capitare che venisse fidata anche a un tenore per quanto a un tenore scuro a Bologna quest'opera arriva tardi abbiamo nel 1828 uno spettacolo qua al comunale che si chiama Le Nozze di Figaro andiamo a vedere con attenzione di cosa si tratti è un balletto un balletto del Salvatore Gioia che non c'entra assolutamente nulla con l'opera l'opera le cronache le cronologie del comunale ce lo raccontano è arrivata soltanto nel 1940 quindi ha tardato moltissimo tempo dopo invece è arrivata con una certa ricchezza con una certa frequenza nel giro di 15-20 anni l'opera effettivamente è tornata e qui le cronache però diventano come dire un po' un po' minacciose anche un po' lusenghiere pensate che nel 1955 cantarono quest'opera Sesto Bruscantini Italo Taio Alda Noni Gabriella Gatti e un'altra serie di cantanti di valore del genere in particolare che Rubino era la grande Giulietta Simionato insomma Lussi che allora ci si poteva permettere e poi negli anni 70 negli anni 70 ci fu un allestimento di Puecker Virginio Puecker talmente interessante io lo vidi che fu rappresentato in tre anni non consecutivi direi 74 76 77 quindi con una frequenza proprio meritata dal tipo di spettacolo poi negli anni 90 poi ancora più recentemente se non ricordo male nel 2012 anche con buoni aspetti registici c'è stata poi la regia di di Martone la regia di De Bosio e quindi come dire si sono visti spettacoli molto molto omogenei ecco veramente quest'opera si merita tutto questo dalle mie brevi e facili comunque ricerche è saltato fuori anche questo la cosa ci può un pochino consolare come dire e cioè che nel 1904 qui al comunale ci fu un concerto dove il programma comprendeva ahimè ahimè non tutta l'opera soltanto l'ouverture però la dirigeva Arturo Toscanini e quindi come si suol dire niente male grazie